Cari amici del canale YouTube, rieccoci. È una giornata molto molto intensa perché stiamo lavorando sulla notizia del giorno, la notizia più importante di questo momento, cioè di un incontro che c'è stato questa mattina tra Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero e il proprietario del club Jerry Cardinale, proprietario di Redbird Capital. Un incontro che c'è stato nella mattinata, solamente tra questi due protagonisti che ho appena citato, quindi non c'erano né Furlan, né amministratore delegato, né Frederick Massara, né tutti gli altri, incontro che ci dicono quello che abbiamo appreso molto 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 importante. E quindi siamo in attesa di comunicazioni ufficiali, siamo in attesa anche di comunicazioni ufficiose, perché mi ha detto che poi arrivino comunicati a mezzo stampa, può essere anche che arrivino delle linee, almeno da seguire da parte del club rossonero, in base a quello che è accaduto all'interno di questo summit, di questo faccia a faccia, come ho scritto questa mattina nel titolo del video di questa mattina. Di questo incontro, al di là delle sensazioni, c'è chi dice è andato male, c'è chi dice si andrà avanti insieme, lasciamo stare le sensazioni, guardiamo i fatti, i fatti dicono che al momento c'è silenzio tra le parti, perché secondo me insomma si sta anche riflettendo sul da farsi, la cosa che emerge ormai da tempo è che Paolo Maldini e Gerry Cardinale avevano e hanno, credo, modi diversi di intendere come portare avanti un club, o comunque sulla questione degli investimenti soprattutto. È chiaro che Paolo Maldini quando dopo la partita con l'Inter e anche prima della gara con l'Inter all'andate, dopo quella del ritorno, quindi nell'arco di una settimana, dice due volte, è il momento di investire, è il momento di fare investimenti, è il momento di spendere, è chiaro, addirittura lui dice, l'ho detto alle proprietà americane, prima Elliot e Paul Redbird, che è fondamentale spendere e investire per aumentare la qualità della rosa. È una cosa scontata, no? Però ecco evidentemente queste esternazioni forse non sono state gradite dalla proprietà che invece vuole fare sempre le cose un po' più affari spenti, magari parlarne senza alzare polveroni e forse si sta parlando anche di questo, si sta parlando sicuramente di come procedere durante l'estate, con quali investimenti. Ecco, una serie di discussioni sul futuro del Milan e anche sul rapporto tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini. Dunque, oggi credo, oggi è il 5 giugno, credo che sia un giorno campale per la stagione del Milan, il futuro del Milan, quindi attendiamo comunicazioni, al momento non ce ne sono state, mentre registro questo video siamo verso le 17.50, quindi sostanzialmente c'è ancora tutta la serata, se dovessero arrivare delle comunicazioni, intanto qui davanti a me Whatsapp aperto, se dovessero arrivare delle comunicazioni farò un altro video in cui parleremo e commenteremo tutto quello che arriva su questa situazione. C'è da dire anche un'altra cosa, che ieri durante la partita di addio di Zlatan Ibrahimovic, quindi durante Milan e Las Verona, partita finita 3-1 per i rossoneri, la curva sud si è esposta. Ha esposto uno striscione, ha parlato di investimenti, si è rivolta alla società, ha detto che ora è il momento di spendere, è il momento di investire, è il momento del calcio mercato, perché comunque la squadra ha bisogno degli investimenti. Questo è il pensiero della curva sud, ma credo che rappresenti un po' il pensiero di tutti i tifosi del Milan, che dopo aver vinto lo Scudetto l'anno scorso e rischiato concretamente di non entrare in Champions League in questa stagione, vorrebbero un mercato un po' più importante, un mercato un po' più diciamo in cui si può investire, si possono investire cifre un po' più alte rispetto all'ultimo calcio mercato. Questa è l'idea, il desiderio, il pensiero della curva e dei tifosi, bisogna capire se poi combacia quest'idea, questo pensiero con quello che diciamo è il business plan della della società rossonera, in questo caso di Gerry Cardinale e di tutti coloro che rappresentano il club a livello di vertice della società rossonera. Quindi bisogna capire se durante l'estate c'è davvero la reale volontà di fare uno sforzo economico oppure invece mantenere la linea della scorsa stagione e degli anni precedenti. La mia personale sensazione è che il Milan ripercorrerà un po' la strada delle scorse stagioni, quindi non farà investimenti abnormi, non farà il passo più lungo della gamba, seguirà una linea e quella sarà. Insomma, questa è la mia sensazione, poi bisogna vedere se i fatti ci smentiranno oppure no. Per quanto riguarda il calcio mercato abbiamo detto che ci sono delle operazioni che devono essere solamente concluse come quella di Camada, quella di Loft to Cheek, attenzione anche ai rinnovi perché è molto probabile che rinnovi Mirante, il terzo portiere attuale del Milan per la lista degli italiani, quindi si fa anche un discorso relativo agli italiani per l'iscrizione alla UEFA e le liste per la prossima stagione, e anche a Mike Mignan perché la voce che arriva dall'estero di una possibile offerta del Chelsea di 60 milioni per Mignan potrebbe anche essere vera, ma il Milan, lo sapete, per il Milan è assolutamente incedibile, il giocatore non si muove dalla squadra rossonera, è uno dei perni principali, giocatore inamovibile, non si può vendere Mike Mignan e questo vuol dire che sostanzialmente il Milan rifiuterà tutto. Non solo, il Milan sta lavorando anche per rinnovare il contratto a Mike Mignan, prolungarlo, estenderlo dal punto di vista temporale e anche aumentare l'ingaggio del giocatore francese, è troppo importante, Mike Mignan è uno dei pilastri di questa squadra, un incedibile del Milan. Quindi il mercato dovrà entrare nel vivo, ma prima che il mercato entri nel vivo, prima che si facciano delle scelte, prima che si compri quello o l'altro giocatore, che si venda uno o l'altro giocatore, bisogna fare chiarezza, credo, una volta per sempre, sulle idee divergenti, almeno crediamo, tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, perché anche nelle recenti dichiarazioni si evince questa diversità di vedute, questa diversità di pensiero su come investire, come spendere e come portare avanti un club. Quindi la prima cosa da fare è fare chiarezza, una volta per sempre.